Cash Cow Channel Come creare da zero un Cash Cow Channel per YouTube partendo da zero senza nessuna competenza e iniziare a guadagnare online. Vi spiego come fare dedicandoci 5, massimo 10 minuti al giorno del vostro tempo. Ok? Anzitutto cos'è un Cash Cow Channel? Il Cash Cow Channel è un canale YouTube in cui non dovete metterci la faccia e volendo nemmeno la voce. Create dei contenuti con immagini inerenti all'argomento che state trattando con una voce che può essere la vostra voce registrata o una voce robotica generata da portali che adesso andremo a vedere che può anche assomigliare o essere identica anche alla voce umana. Come funziona il discorso? Si usa nel 2023 questi strumenti, seguite me, ChatGPT per creare il testo quindi del video che si vuole andare a creare, Flykey per creare il video e poi lo si pubblica su YouTube tramite il YouTube Studio e con TubeBuddy si ottimizza la SEO del video. Consiglio la versione Pro, trovate tutti i link in descrizione e poi ovviamente TubeBuddy con la versione Pro vi aiuta anche a ottimizzare le copertine che vi permette anche di creare le copertine, ma per le copertine consiglio l'utilizzo della piattaforma Canva anche in versione gratuita. Oggi vediamo tutte queste cose, quindi pronti e partiamo. Quello che dobbiamo andare a fare, la prima cosa è questa. Ok, qua siamo su ChatGPT, gli ho detto adesso come realizzare un Cashflow Channel, ma per esempio qua abbiamo un altro contenuto, no? Come creare, che ne so, un canale YouTube di successo per dire, no? Vi fate scrivere il contenuto dall'intelligenza artificiale. Una volta che ve l'ha preso lo copiate, aprite la piattaforma Flykey, andate su, dovete andare su File, New File, gli date il nome, la lingua, poi se volete solo là o farvi generare dell'audio, solo l'audio, altrimenti il video, fate Create e vi apre ok, questo. Andate a incollarci il testo, lo soddividete per i vari, il testo nei vari capitolini, automaticamente lui cosa farà? Vi metterà delle immagini inerenti, l'argomento di cui state parlando, o potete cliccare andare a cambiarlo, ci sono quelle che vanno sbloccate con l'account a pagamento e quelle incluse nell'abbonamento, gratuito. Però già lui vi mette delle immagini, vedete, io parlo di YouTube, lui mette immagini di canali YouTube, vedete l'immagine, così, i soldi online, la Shura col tablet, iscriversi, come vedete il vlog, insomma, sono tutte cose che ha fatto lui in automatico, io solo ho messo il testo e qua avete la voce, adesso io vi metto le cuffie per comodità, eccoci qua. Flicky ti aiuta a creare contenuti audio e video utilizzando voci arealistiche in meno di un minuto. Potete selezionare le varie voci, provarle, quella che preferite, si può anche fare clone your voice, eccola qua, bisogna fare l'upgrade al piano premium ovviamente, ma potete clonare la vostra voce senza problemi. Una volta che avete completato il video, potete tranquillamente, fare l'esportazione, fate il download e in automatico lui vi salva il file nella cartella di download. Poi a questo punto andate sul vostro YouTube studio, carica video, ci andate a trascinare dentro il file che è stato scaricato nella cartella download, in questo caso, eccolo lì, allora lo trasciniamo, formato del file non valido, ah giusto, giusto, ho sbagliato, ho sbagliato file. Ok, si carica il file, mettete un titolo, tipo questo qua è come aprire un canale YouTube partendo da zero senza competenze, successo, selezionate il titolo che avete messo, lo mettete dentro la descrizione andando a controllare gli hashtag, io nelle impostazioni YouTube studio ho già configurato questi che mi vengono messi in automatico, poi si modifica in base a ogni video che vado a pubblicare, ok, canale YouTube, vi dice anche quanti video ci sono con questo tag e quanti canali, poi stessa cosa, andate a selezionare la playlist di riferimento che volete o le playlist, poi andate, io ho già impostato nelle impostazioni come caricamento predefinito determinati tag, ma potete anche andare a cancellarli, mettere per primo assolutamente la frase del titolo, poi vi fate consigliare da TubeBuddy e link in descrizione per avere la versione pro per sbloccare tutte queste cose qui, costa veramente un'inizio a 4 euro al mese, mi sembra una roba del genere, una sciocchezza, selezionate, ecco, molto importante la categoria del video e andate poi a caricare la copertina del video, la copertina che dovete andare a creare con Canva, apritela su Canva.com, crea progetto, miniatura YouTube, in automatico non dovete fare altro che mi laga un po' la connessione, scusate, vedete, ce ne sono già un sacco di quelle, anche con la versione gratuita, di quelle già pronte, si butta qua, ok, ha caricato, si prende il testo, YouTube, corso completo, ok? Per principianti, molto bene, lo rimpiccioliamo un pochino, lo spostiamo, a posto, poi potete cambiare i colori, insomma, se volete un corso dedicato sull'utilizzo di Canva, fatemi sapere nei commenti che ve lo preparo, comunque, condividi, scarica, scarichi la copertina del video, a questo punto tornando su YouTube Studio, carica miniatura, eccolo qua, apri, mi avrai inserito la copertina, do avanti, si possono aggiungere i sottotitoli che sono molto utili per l'indicizzazione SEO del video, oppure potete farle generare automaticamente una volta pubblicato, andate a mettere la schermata finale dove vi consiglio di mettere sempre tre video più l'opzione di iscrizione e quello che vi consiglio anche di andare a fare è andare ad assegnare delle schede, le schede sono quei rimandi che appaiono in alto dove c'è la possibilità di vedere altri vostri video, playlist e quant'altro, quindi si può fare, basta fare così, magari non all'inizio del video, scusate, magari uno ci si posiziona qua, che ne so, 34 secondi, aggiungi video, ok, si fa riferimento ad altri video, voilà, qua aggiungiamo una playlist, voilà, questo qui, qua ci andiamo a mettere canale, questo è il mio canale, uno va lì, si può iscrivere, iscriviti, ok, molto bene, una volta fatto questo, ok, potete mettere fino a cinque schede, non può superare i 30 caratteri, messaggio, ok, si salva, date avanti, ok, qua ha fatto il controllo del copyright, comunque potete proseguire anche se non l'ha finito, lo continuerà a fare in background, potete poi programmarlo se avete in privato, non in elenco, che quindi per vedere serve avere il link del video, oppure se impostare una premiere, quindi che, come se fosse appunto una direct, dove la gente interagisce anche con la chat, o programmarlo, programmarlo anche come premiere, oppure programmare l'uscita del video per una data della specifica, e la premiere si può configurare con il conto alla rovescia, di quanti minuti, e che tipo di premiere e conto alla rovescia si vuole andare a attuare, se andare a mettere anche un reindirizzamento, da dare, diciamo, alla fine dell'evento, oppure, della premiere, oppure aggiungere anche un trailer. A questo punto si mette in programma, o si pubblica, a seconda di quello che avete deciso, e pubblicate il video. Voilà, cinque minuti, neanche avete creato un video per il vostro Cashcode Channel, e pubblicatene uno al giorno, vedrete che arriverete a mille iscritti e quattromila ore di visualizzazione come niente, senza metterci la faccia, senza registrare la voce, creerete contenuti di qualità per un Cashcode Channel della vostra nicchia, crescerà la vostra community, e comincerete a guadagnare i vostri primi soldi online con un Cashcode Channel. Ok. Qua abbiamo fatto. Oh, eccoci qua. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto e sia stata una guida interessante, secondo me è molto utile per chi vuole iniziare a fare business online in questa maniera con i Cashcode Channel. Vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi al canale, mettete un like, commentate, tutto quello che c'è da fare, così mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a far crescere il canale, a portare contenuti sempre migliori, condividete il video con vostri amici, parenti, fateli iscrivere al canale. Noi ci vediamo in una prossima puntata. Grazie di avermi seguito. Ciao!